Ciao, sono Don San, questo è il mio minuto di recupero. Il mio supernome è My Friend. Se non fosse un cacciatore sarei una persona che lavora nelle piantazioni di cacao. Il mio primo sport che ho praticato è Ping-Pong. Il mio film preferito è Anaconda. Il mio animale preferito è Tigre. Il mio frigo non manca mai le banane. Il mio compagno più casinista è Diavara. Il mio giocatore che preferisco da bambino è Zidane. La musica che io ascolto quando arrivo in campo è un musica ganese. Il mio compagno di stanza è Diavara. La cosa che mi piace di più di Bologna è come si mangia bene qua a Bologna. La cosa che mi fa più paura è stare in stanza con Diavara. Il mio compagno di squadra più valentoso è Diavara. Se io avessi un superpotere, avessi un batman. La mia attrice preferita è Diavara. Il mio compagno di squadra che non potrei mai avere con un avversario è Marios. Il mio momento più bello a Bologna è quello che ho segnato con mio ex a Verona. Il mio compagno di squadra di squadra di squadra di squadra. Il mio compagno di squadra di squadra di squadra di squadra di squadra. per il refino di squadra di squadra di squadra di squadra.